Sono migliaia le bollette pazze inviate ai pescaresi negli ultimi sei mesi. Luce, acqua, gas e servizi telefonici non solo venduti a caro prezzo, ma anche a saldo non dovuto. Il dossier, realizzato dall'associazione Codici Abruzzo, racconta una realtà importante sotto il profilo della tutela dei diritti del cittadino. La nostra azione la rivolgiamo essenzialmente a due settori, l'anti-usura e l'anti-indebitamento e i disservizi nelle utenze. A tale proposito abbiamo costituito uno sportello. La nostra responsabile regionale, la dottoressa Di Prospero, che già è operativa in questo sportello, adesso spiegherà come funziona questo sportello. Abbiamo gestito circa 200 pratiche di conciliazione, relative quindi a luce, gas, acqua e telefonia, ed abbiamo ottenuto anche risultati importanti. Siamo riusciti a far annullare circa 100.000 euro di fatture ed ottenere indennizi, quindi ristori economici, per circa 50.000 euro. Le principali problematiche riscontrate sono state l'attivazione di servizi e contratti non richiesti, l'addebito di costi non dovuti, fatture di conguaglio prescritte, interruzione dei servizi e perdita della numerazione. Ma l'associazione Codici non si occupa soltanto di utenze, ma offre una tutela a 360 gradi del cittadino. Quindi ci occupiamo di sanità sociale, assicurazioni, banche, frodi alimentari, promuoviamo la legalità e contrastiamo l'usura. A un cittadino che si vede recapitare una bolletta, cosa è che può saltare agli occhi per primo? L'importo oppure altro? Sì, quando ci sono degli importi anomali, quindi che non rientrano nella media dei consumi, e quindi analizzando poi la fattura vediamo quali possono essere le cause. Quindi se ci sono dei dati stimati che non corrispondono con i dati reali, oppure se a seguito del cambio misuratore, ad esempio, è stata indicata un dato di cambio errato che non è stato poi riportato in fattura. Però loro dicono, quando poi si fa la telefonata, loro dicono, no ma è il conguaglio. Sì, però un esperto che analizza la fattura poi capisce se effettivamente il dato è giusto oppure se bisogna comunque agire per farlo rettificare. Voi avete parlato di truffe, qual è la configurazione della truffa in questo caso o in altri casi? Noi riceviamo anche molte segnalazioni di persone che vengono contattate dal servizio clienti, quindi gli viene offerta un certo tipo di contratto a certe condizioni economiche e poi al momento del ricevimento della fattura invece si accorgono che l'importo è totalmente diverso e quindi hanno applicato condizioni economiche diverse. Grazie. 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 Grazie.